Sono stata sveglia fino a tardanotte a studiarmi il materiale che vi metterò anche in descrizione il formato pdf delle disposizioni dell'INAIL e dell'istituto superiore della sanità per quanto riguarda le spiagge e come si potrà andare al mare quest'anno non riesco a trovare parole per descrivere il mio sentimento io sono nata sul mare sono nata in un ospedale che aveva le finestre sul mare recco è una bellissima località ligure andatela a visitare o non quest'anno però dunque innanzitutto per fare qualche breve accenno a quello che potrete andare a leggere con i vostri occhi ci sono degli obblighi che hanno dell'assurdo a cominciare dai cinque metri di distanziamento da ombrellone o ombrellone alle mascherine che devi indossare arrivando in spiaggia le mascherine che devi indossare uscendo dalla spiaggia non puoi stare vicino le persone in battigia a meno di due metri i bambini dovranno essere iper controllati non potranno costruire castelli e giocare con gli altri amichetti in spiaggia dovranno essere redarguiti e allontanati dagli altri bambini mori san uno di questi influencer ha pubblicato una ricerca fatta a roma pubblicata soltanto su youtube a me non risulta che la rai abbia pubblicato questa ricerca su quali sono i traumi che sono stati generati ai bambini da tutta questa vicenda andatevela a vedere vi metto il link anche di queste testimonianze ritorno all'argomento ho parlato fino adesso soltanto dei bagni a pagamento dove appunto dovrei dovrete prenotare verrete distanziati appunto dagli altri di almeno cinque metri naturalmente il bar o tutte le strutture del dei bagni dovranno pedesquemente rispettare distanze sanificazione a 35 30 gradi all'ombra il bagnino dovrà portare i guanti e la mascherina persino ogni singola sdraio dovrà essere sanificata di volta in volta e questi psicopatici al governo credono davvero di poter imporre che la stessa sdraio data il giorno prima sia ridata alla stessa persona giorno dopo io credo che i nostri governanti abbiano davvero bisogno dell'aiuto di un buon medico psicologo devono aver subito nella loro infanzia dei traumi terribili che non hanno mai affrontato che non hanno mai risolto ma passiamo alle spiagge libere stessa cosa le spiagge libere dovranno essere perimetrate da questi nastri bianchi e rossi che delimiteranno l'esatto numero di spazio del tuo asciugamano con l'esatto spazio di metratura dagli altri quattro metri e mezzo posso avere capito male ma leggete voi per andare in spiaggia bisognerà prenotare e indovinate un po con una applicazione che può anche mappare il contagio è immuni l'applicazione che ci vogliono imporre e in sovrapprezzo ti dicono anche beh ma potrai anche prenotare il parcheggio a pagamento ora terzo link che vi metto è il bibitaro io quel ragazzo lo confesso mi vergogno di avere votato i 5 stelle mi turba così tanto avere dato il mio voto a questi criminali che non voterò mai più in vita mia non riesco più avere assolutamente fiducia in nessuno in nessuno c'è il bibitaro questo ragazzo credo che non abbia mai in vita sua ricevuto davvero l'affetto di cui aveva bisogno fin da piccolo non è stato forse neanche lui in grado di rendersi conto a che livello di immaturità è io ve lo faccio ascoltare questo malato viene a dirci di comprare italiano comprare made in italy ma si è accorto che non sono arrivate le casse integrazioni si è accorto che la gente sta andando alla caritas si sono accorti che la percentuale di poveri è quasi triplicata come può pensare che la gente abbia voglia di comprare il made in italy ma cosa mi compro una borsa di versace a 7 mila euro ma cazzo sta dicendo loro vede rendere conto nel terzo link che vi metto a questo tizio viene a dirci che faranno tutto il possibile per far venire i turisti in italia ma non verrà nessuno in italia con le normative che noi stiamo introducendo sulle spiagge non ho ancora trovato una persona a dirmi ok mi va bene andrò al mare con quelle regole tutti ci stiamo rifiutando tutti tutti anche quelli più convinti anche quelli che si mettono la mascherina persino stare in casa ti dicono no no ma se le regole sono quelle io quest'anno al mare non ci vado chi ha in concessione un piccolo chiosco o anche chi ce n'ha più grosso quando anche riuscisse a rispettare pedesquemente tutte quelle regole guardate che va sotto non riesce a starci dentro con le spese e difatti le associazioni che rappresentano diciamo i proprietari dei vari bagni o che hanno in concessione dei maniali delle spiagge hanno già detto che non aprono neanche infine dettaglio la liguria picco sul mare la liguria è a picco sul mare cari criminali dell'inail perché non vi occupate dei morti sul lavoro e istituto sanitario superiore della sanità ma l'avete studiata la geografia è a picco sul mare la liguria quando noi in liguria vediamo un pezzo di litorale che sia 10 metri per 10 giallo chiamiamo spiagione è impraticabile per la liguria quelle misure persino totti ci è arrivato ora bisognerà un po' vedere questi presidenti di regione si alzano un po' la testa bisogna che alzate la testa cari presidenti di regione bisogna che fate come il trentino alto adige che alle contestazioni di conte hanno risposto bisogna che diventate coraggiosi cari presidenti di regione studiate studiate le condizioni in cui vi metteranno quest'anno se volete andare al mare vi aiuto vi lascio il link ciao ciao ciao